All'inizio del due... All'in... All'iniz... All'inizio... All'inizio del... E io... E io sono... E io sono pronta... E io... E io sono pronta... E io sono pronta... E io sono pronta... Così. Di quando... Di quando... Di quando nei GDR? È con... È conosciuto in... È conosciuto in... È conosciuto in molti modi... Perché non va il microfono? Ai quali per... Cfff... Cfff... Ai quali per altri... ai quali, peraltro, pare che abbiano insieme lo stesso che Mr. Crocodile Dundee, ma anche se su sito della GV vengono classificati come tali, e li ha trasformati gli avi, gli avi, gli avi ci osservano, sempre vi lascio tutti i link in descrizione, fatto!